amici di atti sport 24 benvenuti ad una nuova puntata di due metri la pallannuoto vista da vicino abbiamo il grande piacere di avere oggi insieme a noi il campione del mondo in carica il nuovo attaccante della n breccia stefano lungo ciao stefano benvenuto è un piacere averti in nostra compagnia ciao andrea ciao a tutti piacere mio stefano inizio col chiederti quali sono stati i motivi che ti hanno spinto a lasciare lavoro recco e ad accettare l'offerta della n breccia sicuramente avevo bisogno di di nuovi stimoli con la vittoria della champions league credo che a recco abbiamo chiuso un ciclo e infatti molti giocatori sono andati via però personalmente avevo bisogno di nuovi stimoli e quindi ho deciso di andare via breccia è stata la squadra che mi ha mi ha convinto di più sotto tanti punti di vista e quindi sono molto contento di essere qua con quali ambizioni la squadra che ha interrotto l'egemonia tricolore dei liguri e tu ne sai qualcosa di questa situazione si presenterà ai nastri di partenza della nuova annata c'è stato già l'assaggio della coppa italia ma siamo nelle eminenze di campionato e preliminari di champions sì la coppa italia è stato proprio un avvicinarsi un avvicinamento perché non dimentichiamo che l'anno scorso con tutto questo problema del covide abbiamo giocato veramente poche partite due anni fa zero questa l'anno scorso veramente poche quindi è proprio tutto quasi una nuova prima volta per noi e anche noi come squadra abbiamo cambiato tanto quindi sono andati via gente molto importante grandi campioni come jokovic vlacopoulos e qui quindi anche tanti italiani come cannella del lungo quindi siamo una squadra molto nuova non sappiamo ancora anche noi dove collocarci ma lo scopriremo presto è accennato prima è stato un primo assaggio di partite quasi un test match di alto livello però ti chiedo quale eredità vi ha lasciato il girone di coppa italia che avete giocato e vinto contro orari nantes salerno e quinto ma non ci ha lasciato nessuna particolare eredità nel senso che è troppo presto per già iniziare a pensare a qualcosa noi siamo veramente come ti dicevo prima una squadra proprio in gran parte nuova a parte il blocco dell'anno scorso che ha vinto il campionato meritatamente e quindi dobbiamo solo lavorare 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 tanto per amalgamarci come gruppo e come come squadra quale ulteriore step di crescita a tuo avviso deve compiere questo gruppo per riuscire a difendere il titolo dall'assalto di una prorecco che si è ulteriormente rinforzata ed è sicuramente decisa a ristabilire la sua egemonia tricolore ma il salto di qualità bisogna farlo mantenendo ciò che è di buono ciò che è di fantastico hanno fatto l'anno scorso ti ripeto perché mi è piaciuto molto anche se l'ho subita come sconfitta però mi è piaciuta la loro vittoria perché è venuta una vittoria di gruppo e soprattutto hanno fatto la differenza gli italiani il gruppo italiano e quindi quello che deve fare è consolidarsi continuamente questo gruppo italiano molto forte e poi lavorare su diciamo le dinamiche di squadra per poter fare bene anche in Champions League Sabato vi attende l'esordio in campionato, arriverà alle piscine di Monpiano il neopromosso Nuoto Catania che partita ci possiamo aspettarci e ti chiedo anche quali risposte chiedete a questo primo incontro della nuova Serie A1? Noi stiamo lavorando tanto, stiamo lavorando dal punto di vista fisico, dal punto di vista tattico quindi le risposte che ci saranno, anche quelle che magari non saranno delle grandi risposte però sarà normale perché saremo sicuramente un po' faticati e contratti dal punto di vista fisico però l'importante è come si suol dire che i nodi vengano al pettine subito e così poi possiamo lavorare e rimare questi errori Quindi diciamo che parliamo di un Brescia work in progress Assolutamente sì E a tal proposito ti chiedo come sta procedendo il vostro lavoro di preparazione che credo in questo momento sia poi finalizzato al primo impegno ufficiale in Champions Esatto, quindi sta procedendo bene, sta procedendo anche molto forte perché stiamo lavorando tantissimo fisicamente ma non solo come nel discorso che dicevamo prima che quindi siamo una squadra con tanti elementi nuovi che si devono come me integrare in questo nuovo gruppo quindi si lavora tanto dal punto di vista fisico ma anche tanto dal punto di vista tattico perché come sai Mr. Bob ha un'idea di gioco molto chiara e quindi noi nuovi, mi metto in mezzo io, Boris Vapinski, il portiere, Tesanovic dobbiamo entrare subito nell'ottica di Sandro Bovo quindi stiamo lavorando Certo Provo a stuzzicare un po' la tua vena polemica Ritieni giusto che chi arrivi stabilmente tra le prime otto nel panorama continentale debba passare poi per accedere nuovamente al tabellone principale del massimo torneo continentale dai turni preliminari No, sicuramente non è giusto però noi che dobbiamo fare? Nel mondo della palanuoto non è solo questa ingiustizia e non solo nel mondo della palanuoto ce ne sono che cosa si può fare? Si può solo prendere queste cose in maniera positiva e prenderle come uno step di crescita e dire adesso andiamo nel girone che si svolgerà nostro a Parigi e lo sfruttiamo tra virgolette per cercare di capire tante cose e cercare di consolidare il nostro gioco E a tal proposito, hai citato il girone sono stati effettuati i sorteggi per il secondo turno preliminare di Champions League a Enne Brescia che in Francia incontrerà i padroni di casa transalpini non so se pronuncio bene il francese il Noisy-lesec l'Orvosi e il Terrazza che girone vi aspetta e qual è la squadra o quali sono le squadre che possono crearvi maggiori problemi? La squadra che vedo con i nomi dai nomi sulla carta più attrezzata sicuramente l'OSC che ha elementi importanti come Manerzio che ha fatto vedere grandi cose quest'anno alle Olimpiadi Arai campione olimpico, campione mondiale con l'Ungheria insomma ha dei bei nomi poi lo sai che la scuola ungherese sforna nuovi talenti ogni anno quindi hanno giovani molto interessanti poi il Terrazza che negli ultimi anni è sempre diciamo sul pezzo facendo questo gioco molto dinamico che caratterizza gli spagnoli e poi c'è la squadra di Parigi che io la pronuncio molto peggio quindi andiamo d'accordo sul nostro francese sicuramente non ottimale esatto però loro come sai visto anche delle Olimpiadi di Parigi stanno investendo molto e quindi sono una squadra molto attrezzata sarà un girone interessante che ci metterà alla prova e ti dico la verità non vediamo l'ora di affrontarlo va bene siamo così giunti al termine della nostra chiacchierata ringrazio Stefano Longo per averci fatto compagnia do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata ciao Stefano alla prossima ciao grazie Andrea